Il Museo di Riva del Garda propone una personale dedicata a Italo Bressan, artista trentino e docente di pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, con la quale si esplorano nuovi aspetti degli ambiti di ricerca già analizzati nelle altre esposizioni. Il titolo della mostra, Anime, che sarà inaugurata domani alle ore 18 e rimarrà visitabile fino all'11 giugno, prende le mosse dall'ultimo ciclo di opere di Bressan, il cui lavoro è da sempre focalizzato sul tema del colore, nella sua valenza espressiva, emozionale ed evocativa. Il progetto espositivo, che propone una trentina di dipinti, copre un arco cronologico che va dalla fine degli anni Ottanta fino all'oggi, con la presentazione di opere per la maggior parte inedite.